... 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 Luca Zanni Luca Zanni era molto particolare pochissimo da ragazzino diceva tutto diceva Pietti diceva tutto e poi è tornato e poi è tornato quando può andare a scuogli anche l'Italia è tornato di mattina in questa stagione la zona non gli è colgito non gli è colgito continuiamo a campare almeno questo prima è l'immiginazione almeno questo da un paio di fie che controlla il rosto il vero il grafo e il massacrime il dolore è un'opposizione ma lo guarda il figlio nella panca del rosto come la dita in gel baroni parancolini sbagliata parancolini ma oggi è distinto da un suono un'attività prima a Montenegro chiam 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 è un giocino attività è un giocino un'azione colgia esterne per fare vuoi proseguire un giocino è un giocino Quattro minuti, Zan, aggioramento, campana a meno 19, colma in un'unione a meno 18, campana a meno 19, il sottotitolo è fatto, non sta, fatto selezionare, c'ho il giro nel mezzo con Giovanni Colini, brava, potete accostarvi una scuola, adesso Luca andai in avanti, e viene, va bene, solo con la stacca, la carolina di Zan, 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 Z pancolini con Reggio in Unro, un ritrovato e sbagliata e alcuni del pio verde si vanno avanti franzi richi con il suo regenone zona vuole la spinta, granzi con Reggio si legge da Reggio Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.